Ciao fratello, ma chi ti ha messo nella scatola? Ehi, sono diventato verde nella scatola! Come potete vedere oggi apriamo un elastic tops! Come potete vedere è un glow in the dark, quindi fa parte della famiglia che si illuminano al buio. E qui c'è scritto che è tra i più grandi di quelli che fa il elastic corps e lui si chiama Maxi Gamma, ha dei muscoloni. E come vedete c'è i quattro perché è superiore, possono usarlo bambini superiori ai quattro anni di età, quindi tu ci puoi giocare. Pronti ad aprirlo? Sì! Spacchettiamo! Fratello sono uscito! Bene! Allora, vogliamo fare una bella lotta? Allora, dobbiamo far delle gare. Facciamo che questo qui domani lo mettiamo in acqua e vediamo se resiste. Mentre adesso facciamo la prova se si allunga. Facciamo la prova? Sì! Alfonso tira e Mattia tira. Tira, 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 tira. È gigantesco! Prova! Proviamo! Ragazzi, comunque effettivamente questo è più pesante di quell'altro che c'aveva. E facciamo una sfida pazza. Proviamo a salirci sopra con la moto. Vai! E quindi chi cade è per il sole. Abbiamo fatto la pizza. Da questo e da questo. Chi sarà più stesso? Si sono schiacciati. E ragazzi, e Mattia se ne va a spasso? Con i mostri di Elastic Tops. Bye! Ragazzi, noi facciamo le ultime prove. Da questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like e... Ciao! Vai Mattia, salta!